ciao ragazzi giorno dopo bis e sapete che quando c'è il giorno dopo bis c'è sempre tanto da dire sono video speciali sono video un po più racchiusi dove sicuramente si prendono anche meno persone ma meglio così io adoro il giorno dopo proprio perché è una cosa più intima ok quindi il giorno dopo bis è veramente per quei pochi eletti quei pochi iscritti che rimangono fedeli alla linea fedeli in questo canale alla linea stretti ai nostri pensieri allora oggi veramente c'è tanta carne al fuoco post fiorentina inter ma non è tanto il discorso della partita una partita che vedeva sicuramente una fiorentina forse alla portata di poter trovare l'uno a uno che ha visto una fiorentina però molto scarica a livello di energie e che praticamente si porta dietro un filone di vicende che ormai la accompagnano da almeno un mese e mezzo due a questa parte quindi scarica di energie anche perché l'inter in due tre passaggi era testa bassa in porta mentre che proprio si vedeva che non seppur volendolo non riuscivi proprio a amalgamare a mettere insieme una manovra che potesse fargli male anche perché come detto mancano le energie mancano le alternative una su tutti tra l'altro è stata quella di rinunciare a sottile per esempio a pochissimi minuti dall'inizio del fischio d'inizio ecco molti mi hanno commentato ma bastava che cambiasse modulo infatti c'è sta cosa noi si dice da da ottobre di cambiare modulo figuriamoci se non siamo in emergenza un trend che tra l'altro aveva anche iniziato poi totalmente interrotto forse ieri voleva visto anche l'innesto di nico gonzalez ecco in partita forse voleva tornare sui suoi passi vincenzo italiano però ecco mai come ieri c'era bisogno di un cambio di modulo però oggi non stiamo a parlare di questo stiamo a parlare di una delle bombe principali prima di tutto le parole di vincenzo italiano ieri nel post partita sul mercato che francamente ti lasciano un po interdetto perché ti fanno riflettere molto ti fanno riflettere molto su quello che è il momento della fiorentina al 29 di gennaio ancora siamo a zero siamo solo a nomi sparati che per me sono giusto per i giornalai che cercano di rinvigorire no rinvigorirsi un attimo visto che in questi giorni sono stati giorni molto bui per il giornalismo fiorentino poi o se arrivasse tipo di olson mi riesce ma neanche quello di genova ci mancherebbe altro e di basse carboni ci mancherebbe altro sono grandissimi colpi ma la vedo molto molto dura poi tra l'altro ci sono già state anche le prime sventite la cosa che però mi fa paura è l'atteggiamento di italiano nel nella domanda precisa diretta e dico finalmente è stata anche fatta questa domanda a domanda specifica risposta molto molto protettiva non ne voglio parlare di calciomercato questo ragazzi ne può dir tanto può dir tanto perché chiaramente siamo nell'ultime fasi quindi magari anche la parte più incandescente e questa è la speranza ottimistica siamo la parte più incandescente potrebbero anche saltare trattative a sbilanciarsi un po troppo no mi viene alla memoria proprio verbato la parte invece che poi legge anche quello che è un po il linguaggio non verbale di vincenzo italiano vede legge una grande rassegnazione questo spaventa non poco la tifoseria proprio perché sembra un vincenzo italiano molto rassegnato a quelle che sono le vicissitudini del calciomercato a quello che è quelle sono gli sviluppi e probabilmente non la accontentano e che alle indicazioni che magari aveva dato e che non gli sono state insomma non non è stato accontentato questo è lo scenario che fa più paura e probabilmente anche il più verosimile dico la verità poi la bomba di oggi bonaventura lo vuoi ci piomba la juve allora fermo bono perché qui si rischia di farmi veramente incazzare non tanto per bonaventura ma perché è un discorso molto più ampio leggo leggo di tifosi che già hanno cominciato a ditare a dirigere il ditino verso bonaventura che è il giochino in questo caso visto i precedenti è il giochino che a cui si vuole arrivare ti fermo subito al di là del discorso juve per me può esserci anche il monza può essere stamattina tra l'altro dicevo monza dicevo atalanta dicevo il roma lazio addirittura la juve vuole arrivare però al di là del discorso juve questo sarebbe proprio il classico giochino dove un giocatore che pronto anche a chiudere la carriera a firenze senza problemi viene messo davanti alle condizioni tu hai un età quindi ti si dimezza lo stipendio perché questo è non mi venite a raccontare la favola e bonaventura ha voluto un aumento di ingaggio per cui non ci credo nemmeno se lo vedo non ci credo nemmeno se lo vedo perché ho appunto i precedenti fino ad oggi quindi tranquillamente avrà chiesto la stessa cifra per uno due anni chiude la carriera e che ci mancherebbe altro l'età incide ma inciderebbe se lui non fosse di gran lunga il giocatore migliore che ha in squadra inciderebbe se non fosse uno dei perni tattici che ha in squadra inciderebbe se non fosse un giocatore a 34 anni ha riconquistato la nazionale e non è che l'ha riconquistata a ciliegine l'ha riconquistata a suon di ottime prestazioni se non c'era bonaventura ragazzi e tu ci avevi 10 12 punti meno ha voglia a appelare ha voglia appelare se non c'era lui te tutti ti ritrovati un centrocampo con mandragora maxime lopez e barack se ti garba meglio loro certo se tu c'è l'alternativa bellingham allora tu gli dio barella tu dici buonaventura mi dispiace il prossimo anno tu c'ha 35 anni levati anche da tre passi ma siccome è di gran lunga il giocatore più forte che attualmente a firenze e che sicuramente anche il prossimo anno al centrocampo sarà il più forte perché non ti piglieranno nessuno meglio di lui quindi arrivare alle stesse condizioni mi sembra al minimo offrirgli la metà mi sembra un insulto al calcio poi se non è la metà ma è poco meno è comunque un insulto al calcio ok e il giochino di portarsi adesso tutti contro buonaventura è un giochino molto pericoloso e occhio a cascarci perché ci siamo già cascati con torreira ci siamo già cascati con saponara con castrovilli e poi è stato un pacco che è stato mandato al benemaut a fare una figuraccia mezzo brutto ci siamo cascati più volte codrio zola ci siamo cascati diverse volte ma questo è un solo giochino pericoloso perché purtroppo buonaventura in questo in questo momento poi se andrà veramente alla juve o andrà via in questa in questo la sessione di calcio mercato è una sconfitta per tutti per tutti e se va via io apro gli occhi in diverse situazioni sia a livello societario ma anche a livello d'allenatore perché non è possibile non è possibile che un allenatore che tutti i semestri gli viene mandato via il più forte prima il centro avanti con più gol in squadra e anche in serie a poi il più forte tecnicamente allora che era torreira poi gli viene mandato via ora bonaventura non è possibile che qualsiasi allenatore di mondo non alzi la mano e non è possibile vincenzo italiano non alzi la mano non si levi da coglioni subito butti all'aria il banco se succede una cosa di genere quindi se dovesse succedere perché probabilmente è successo qualcosa anche all'interno dello spogliatoio e allora li unirei anche diversi puntini unirei puntino della gestione dei rigori totalmente improvvisata perché non esistano squadre di calcio nel mondo nel mondo in qualsiasi categoria dove la regola è tira isse la sente ma che regola del cazzo è scusate ma che regola è tira isse la sente c'è una gerarchia non è possibile non esista allora mi viene in mente anche altre situazioni non ultima quella di riad e allora mi viene da dire forse è scappata veramente di mano e la gestione di questi leader forse anche silenziosi ma molto scomodi diventa un problema diventa veramente un problema perché anche saponare la stessa maniera poi vogliamo levare saponare da questo elenco perché sicuramente poi era anche a fine insomma condizione fisica non ce la non ci reggeva più anche se abbiamo detto più volte che saponare se quest'anno ce l'avevi e lo spostavi trequartista ti risolve alle cose però mettiamo vediamo quello che è successo a verona saponare non è nelle condizioni giocare e quindi siamo contenti così ma anche lui un leader silenzioso portato alla alla finestra portata alla porta quando voleva tranquillamente chiudere l'avventura a firenze quindi succedesse anche su buonaventura mi incazzo una bestia perché allora a quel punto non è più colpa dei giocatori a quel punto non è più colpa dei giocatori e basta dietro c'è forse c'è anche qualcos'altro ok comunque per il resto appunto io ancora sto aspettando l'esterno ancora perché ancora io vedo vedico né poi se mi arrivasse davvero grandi colpi sarei qui alza le mani ma ne dubito e anche se arrivassero e sono arrivato un po tardi un po parecchio tardi perché a quest'ora probabilmente tutti giocati una finale a quest'ora probabilmente un tu giocato già come quella di ieri dove non riuscivi mai a sfondare comunque dire mi la vostra sono curioso